Cari appassionati di congo ciclismo, questo short per farvi vedere i novembrini detti trombe di morto. Poi in questa zona della Faggeta ci sono anche degli Hidlum e però sono anche questi messi nel luccio. Tutte trombe di morto erano un po rovinate. Vedete qua, sono assolutamente non da prendere perché questi vanno presi giovani e sono piuttosto rovinati. In questo short vi saluto dalla Faggeta, andrò avanti, non so se arriverò al libro aperto però cercherò di andare avanti. Sono sopra a Docanaccia e ancora Hidlum rovinati. Chiaramente il freddo ha fatto i danni e le crombe di morto sono anche queste molto rovinate.